Spero no, spero no, spero no, spero no, ho senso grazie a te, oh, oh, ma che è? Ma mica ti metto! Vogliamo farci un drink? Sì, rotola, non salto murtare, rotola! Oh, porco Dio! Ragazzi, applauso! Porco Dio, che male! Qui sta detto che mi viene, non viene! Oh, cazzo, mi sono cadute le palle, aspetta che le vado a prendere SPL, a chi SPL? Ah, grazie, grazie, jumbo! Jumbo folle! Mi è stato un piacere! Fil, 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 fil! Ah, niente, grazie a te, sì, sì, ti nominava! Cazzo! ultima ora milano una tesla è stata rubata le videocamere di sorveglianza sono riuscite ad inquadrare due di questi quattro ladri in faccia alto circa un metro 90 con un treppiedi in mano l'altro sembra un classico tossico universitario di bologna scusatemi 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 dai ciao oddio ti voglio bene dai ma chi è questo porco dio un aborto no troppo mi dissocio sai che ho rischio di essere un aborto io ragazze non abbiate paura di questi signori se non avete le gonne non vi inquadrano sotto la gonna tranquille consiglio solamente di non girare da soli perché quello con la mascherina da poco etero con un gattino ha una cantina bella spaziosa doppia v la figa tu ragazzo biondo parlo con te ma sei per caso un litone si può essere in passato non lo dire è imbarazzante andiamo lì va bene la prova è l'ultimo andiamo a pregare in chiesa c'è aperto no sono chiuso grazie fra bravo pedofilo ora parliamo delle cose serie o mi quando si comincia a tirare sulla polverina magica vogliamo prendere da bere qua non possiamo sì che possiamo siamo mettete la grazie a tutti